Siamo Raffaella Turato, presidente dell'associazione Gaudio Onlus, presente nel territorio di San Donato Milanese da 2011. Siamo un'associazione di genitori e la nostra missione è occupare bene il tempo libero dei nostri ragazzi, facendo progetti sportivi e progetti appunto per il tempo libero. Qui siamo all'Accademia del Ghiaccio di San Donato, dove abbiamo avviato una collaborazione importante con l'Accademia appunto e grazie al Comune di San Donato Milanese, dove abbiamo vinto il bando per il secondo bilancio partecipativo, riusciamo a portare avanti un progetto denominato I Patti Nauti, in cui 15 dei nostri ragazzi con autismo medio e grave riescono a pattinare sul ghiaccio tutti i sabati mattina, grazie alla grande professionalità degli istruttori dell'Accademia del Ghiaccio e degli educatori di Fabula Onlus e grazie soprattutto al Comune di San Donato Milanese che ci ha dato le risorse per poter fare questa preziosa esperienza. In questa stagione ospitiamo Gaudio Onlus con il progetto Patti Nauti. Per noi è una grande fonte di arricchimento, soprattutto personale e ci piacerebbe continuare anche per la prossima stagione e nelle prossime stagioni con loro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono Roberta, sono una ragazza autistica che oggi ha avuto la bellissima opportunità di provare un'esperienza nuovo sul ghiaccio. È stata un'esperienza bellissima, i ragazzi che si occupavano della nostra istruzione sui pattini sono stati bravissimi, i pattinauti sono decisamente molto più bravi di me. Fai, fly, tag to the sky Transformation is coming Regeneration for one Who will fly With new wings I always knew I'd be flying By now I always knew I'd be flying How to fly Grazie a tutti.